Lì siamo, ma torniamo la legata, no? Benissimo. Bello controllo di testa così, capito? Avevo un po' le manine. Oddio, sono giù le manine. Guarda qui. Ancora? Allora, c'è ancora, posso chiederti? C'è una partina lì, che devi girare, poi si ricarica. Ah, sì, sì, sì. E cosa c'è? Cosa c'è che devi girare? Guarda. Guarda, mi piace a te questo. Te la metti lì o lì. E come la tieni tu? Guarda che interessante, no? Non so se hai visto. E poi lì è molto più libero. Vabbè, loro devono utilizzare la mano. Se loro vogliono tenere l'opposto. La vista, se tu lavora l'addoma, non te la cato, utilizzi la sensazione separata. Guarda qui. Benissimo. Bravo, bravo. Dove sta lui? Guarda le mani. Guarda la testa. E lui sta cercando. Benissimo, sai? Ehi, lori, lori, lori. No, no, va bene così. Guarda che ti metto così. Ecco, ancora. Ecco, grazie. Benissimo. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Ehi, ehi. Perché non ti è troppo forte? Eh, potessi che è troppo forte. È troppo forte la lampada? Guarda che la nasconde così, nelle tue mani, guarda. È troppo forte. Scusa, è troppo forte quella lampadina? Eh? È troppo forte? Sì. Bote la testa giù, sì, è vero. La cattuola, bote la testa giù. Ah, ho capito, era troppo forte. E non ti piace il lampare troppo forte? Ecco. Una volta che metti le cose delle mani, ecco, bravo. È possibile che sia troppo sensibile. Lui ha degli occhiali d'estate? Sì. Gli occhiali? Sì, gli occhiali da sola. Perché le dà fastidio la luce forte da sola. Ah, cosa fai?